Dopo averlo inventato dieci anni fa, Nissan conferma la sua leadership nel segmento dei crossover con l'ultima Qashqai. Parole d'ordine, più tecnologia, più sicurezza, più comfort. In dieci anni Nissan Qashqai è stato il leader incontrastato del mercato C-SUV. Ha venduto oltre 250.000 unità e nessun altro ha fatto tanto. Ora, nel festeggiare con orgoglio un decennio vissuto sempre al vertice, Qashqai, presentato avviene in anteprima alla stampa e atteso nei concessionari italiani da settembre, mostra la sua ultima pelle, dentro e fuori. Fatta all'interno di materiali più sofisticati, sedili in monoforme con un supporto anche nella zona lombare delle spalle e con una tecnologia di sicurezza che si basa su una lettura dei comandi più facile e trova il suo top con la frenata di emergenza con riconoscimento del pedone ed un sistema di ausilio alla guida nella fase di retromarcia che riconosce gli oggetti in movimento. Il meglio però lo dà anche fuori. Luisa De Vita, direttore comunicazione Nissan Italia. Abbiamo riguardato anche al look esterno, quindi il design l'abbiamo rifocalizzato nella parte esterna, è cambiata la parte anteriore e la parte posteriore, molti dettagli dai fari alla griglia anteriore e per un look più dinamico e sportivo. Migliorato poi il servizio di sterzo, più fluido e confortevole alla guida e ciliegina sulla torta il potente sistema audio Bose, una vera cabina di regia dell'audio e del suono. Grazie a tutti!